E' la raga! Oggi spuntino con gli involtini Ci sono carote, insalata, gamberetti, spaghetti di riso fatti un po' con la soia E poi pure sti cosi che sono sempre i fogli di riso un po' così con la soia Come salsa ho questa per forza perché è la top con gli involtini, quella cro piccante Yeah! E qua la spicy mayo Top Yes! Strabuoni, freschi, top, sacchiamostoso Devo provare a fare un po' di ricette con questi perché ci sono troppe raga Io amo quando mi attaccate quindi continuate che prendo ispirazione E' un po' di ricette con gli involtini! E' un po' di ricette! 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 E' un po' di ricette!